Allora, come con lino? Vabbè, inizierei di qui, anche perché di là abbiamo già visto. Infatti, dobbiamo prenderci il braccialetto, anzi il chip del braccialetto, e qua è un po' pieno di zombie, e sono tutti qui dentro. Ecco lì, uno. Ah, poi gli altri sono tutti a terra, un po' mezzo addormentati, quindi... Ma sta aperta? Ah no, ok. Ah sì, c'era quello che stava mangiando. Ok. Scudiamo qua, tu non puoi uscire. Però ti faccio uscire io. Ti faccio uscire io. Devo ammazzare, no? Madonna, la mano mi è volata via. Tecnicamente è un po' più afferrata, credo, eh. Oh, è esplosa. Bene, uno è morto, però abbiamo più colpi, quindi... Fammi vedere un attimo. Che non mi ricordo più. Allora. Ah sì, abbiamo i proiettili normali, è vero. Quindi depositiamo. Prendiamo questa. Prendiamo questa. Ok. Esatto. Ok, allora. C'era sempre quello che magnava. Ma anche questa che si alzava. Merdaccia. Oddio. Fida, ha avuto uno scatto. Mi sa che gli è esplosa la testa. Esatto. Lo riprendo, eh. Ok, fuori due. Poi. Questo non mi ricordo se si muoveva. Fa qualcosa. Ah, una granata. Perfetto. Eccolo qua. Presa male. E vai a terra. I nostri menu vengono incontro alle vostre esigenze grazie alle più avanzate tecnologie. Provate i nostri piatti ideali per una sana... Alimentazione. Ecco, si è ancora viva. Madonna. No. Volevo anticiparla, ma... Ho sbagliato. Se ne è alzato un altro. No. E torna indietro. No. No. Mira di merda. E due. Via. Coltello perso. Oh. È ancora viva, tu? Trolliamo. No. Ok. Allora, ne mancherebbe... Beh, solo uno lì dentro, però... Aspetta che mi prendo... Mi prendo... Esatto. Abbiamo tre coltelli, tre granate stordenti... No, mi prendo il coltello. Piuttosto che la granata. Ok, abbiamo tre col... Ah, tre colpi, però... Ne abbiamo presi otto, esatto. Adesso vediamo. Ma cavolo! Sei subito qui. Oh! Vabbè, ti becco... Finito. Cerco di beccarti le gambe, te, sposo, eh. Dai, se lo prendevo in testa. Ok. La deposita. Esatto. Abbiamo una granata che depositerei. Ok. Ok. Dove sei? Sei qui dietro? Eccolo. Vieni, vieni. Ah, a meno che lui qui non viene. Lo so. Cavolo. Ok. Boh. Vediamo se riusciamo a tenerlo così. Ok, qua dentro... Che ho d'avere fatto piazza pulita. Così posso, perché... Segar... Oh, ok. Colpi... Pistola... Diciamo pistola elettrica. Fucile elettrico, eh. Perché qui dentro, sì, potevo segargli le gambe, ma poi era difficile muoversi. Che non è uno spazio, diciamo... Senza ostacoli, ecco. Quindi sarebbe stato veramente difficoltoso. Aspetta qua. Ah, il Mr. Raccoon l'avevano già preso con Leon, mi sa. Andiamo su di qua. Ok. E qui... Ha polvere grande. Ok. Un altro coltello, a saperlo non lo prendevo, non mi ricordavo più. No, qua... Anche, abbiamo preso tutto, ma c'era uno della squadra speciale. Esatto. E che questo bisogna farlo fuori, perché qua lo spazio è un po' picco, un po' stretto, quindi... Meglio seccarlo. Vediamo col coltello, dai. Vediamo. Ah, tipo... Sì, tipo il giubbotto che lo difende. Pensa a te. Ok, ci sono negato, ovviamente. Ok. Qua possiamo stare tranquilli per ora. Che tanto lì il dottore è qui. Se non ricordo male... Sì, ok. Chip. No, il dottore non esce, finché non apriamo qua la serranda. Questo. Condensatore. Fucile a scarica elettrica. Vabbè, prendiamo un potenziamento. Qua serve, ok, il modulatore di frequenza. Esatto, la stanza relax rimane così, perché... Dobbiamo tornarci col modulatore di frequenza. Ok. Allora, l'avevo lasciato... Eccolo lì. Ok. Boh. Fuori. Dottor Lì, il direttore Cartwright la desidera con urgenza nell'area est. Eh sì, va bene. Allora. Dunque, abbiamo... È vero, se la polvere è grande la unisco con questa faccio i colpi di pistola. Beh, aspetterei... A crearli. Poi, che non so se mi servono. Volevo, insomma, stare sempre come al solito, bello risicato. Allora, aspetta. Prendo il fucile. Che combino. Ok. Ha una ricarica... Ma è una vera potenza. Su cavie animali. Ah, è vero, non ho letto la descrizione, mi dimentico sempre, porca vacca. Vabbè, comunque sia, l'abbiamo potenziata. Ed ora, vediamo se dice... No, se dico esamina. No, non dice... Ah, ok, la modifica comunque appare. Reduce l'intervallo tra un colpo e l'altro. Ah, ok. Il condensatore. Va bene. Ok, no, la depositiamo. Adesso non la teniamo. Ok. Perfetto. No, eh... Se abbiamo quattro colpi di questa qui... E... Basta. No, per la pistola, dico, sì. Abbiamo quattro colpi di pistola, ma... Mmm. No, va bene. Va bene, allora, direi di proseguire un attimo, vediamo. Ok. Ah. Ah, qua ce lo danno il modulatore. Così presto. Ah. Registratore forze speciali. Ah, questo l'avevo già letto. Sì. Va bene. Ok. La gente antivirale è nell'area ovest. Esatto, là. Dove c'era il... Il coso, il... Il campione di virus con Leon. Però se abbiamo già il modulatore... Tanto vale. Aspetta, ecco, qui c'è sempre il nostro amico a terra. Non c'è più? Dov'è? Buh. Ah, ecco, mi ha fatto ad entrare dentro. Buh. Vabbè. Allora, OSS. No, non il coltello. Ah, ok. Siamo già su OSS. Aspetta. Così. Ok. Ok, adesso lui si risveglia. Intanto prendo questo. Inventare l'inventario. Anzi, cosa faccio? Nota di quelli l'avevano già letto. Siccome qua non c'è più nient'altro... Io me ne vado, perché dovevi sprecare il copio per quello lì. Cioè, come ha fatto ad entrare nella mensa? Eh sì. Buh. Vabbè. Non lo so. Ok. Allora, sì, abbiamo un botto di spazio adesso. Dovevo andare prima nell'area est. Sì, ma pare che un deposito c'era là. Vediamo. Intanto apriamo il ponte. Ok. Poi apriamo questo. Poi apriamo questo. E ok. Allora, la mappa qua. Qua c'è qualcosa. No. Lobby. Esatto, qua era il deposito. Altri salvataggi che con Claire ce li regalano. Ce li tirano dietro i salvataggi. Va bene. Qua era una scorciatoia. Infatti è chiusa. Ok, c'è nient'altro. Non mi ricordo. No. Oh, sì, qua c'è. Una polvere da sparo. Vabbè. Eh, eh. Ne abbiamo, allora, depositiamo questo. Depositiamo questi. Eh, abbiamo due polvere da sparo normali e una grande. Aspettiamo sempre. Vediamo se troviamo una di qualità alta. Anzi, due di qualità alta. Non sarebbe male. Allora, però, stavo pensando. Sicuramente le munizioni acide contro le piante, magari li fanno, magari no. Non saprei. Però mi scoccerebbe anche spercare munizioni incendiarie per gli zombie pianta. Perciò stavo pensando. Proviamo. Proviamolo. Il fucile elettrico. Vediamo se gli fa qualcosa. Perché questi li vanno, vanno uccisi per forza. Visto che i proiettili di pistola non gli fanno niente. Ok. Ok. Abbiamo un sacco di salvataggi. Va bene. E basta. Basta, basta. Ok. Almeno... Testiamo. Sembravano... Ah, non sembravano dei colpi, no? No, no, no. Tutto preso. Eccolo lì. Il nostro... Braccialetto identificativo. Ok. Vabbè, ormai non ti dovresti più stupire, Claire. Qua c'era qualcosa. Accesso al computer riservato al personale dirigente. Ah, ma sapete che con Leon... Io poi non sono tornato qui. E già... A parte che me l'avevo dimenticato. Ma con Leon... Avevo fatto tutto il giro ed ho scappato via. Praticamente. Sì, non sono tornato qui. Adesso vediamo se me lo ricordo. Vediamo se con Claire... Riusciamo a leggere il documento. Ok. Allora. Dov'è che era la... Eccola lì la pianta. Guarda che lì c'è uno a terra che si muove. Sì, ma tanto questo si anima. Però questo qua... Non vorrei sprecare colpi. Colpiamo quello là. No. Perché? Ah, forse aveva un Ranger limitato. Non me lo ricordavo più. Ma con chi ce l'ha, scusa? Che non si è animato nessuno. Vabbè. Senti, facciamo così allora. Ecco. Ecco. Eh, ma non è morto, eh. Non è morto. È solo... È solo elettrizzato. Qua ci voleva il lanciafiamme. Eh, l'Ion era vantaggiato qua, eh. È di brutto. Può avere qualità alta. Perfetto. Ma che cresce roba. Eh, però non è bruciato, eh. Ma va che gli cresce roba su. Quanti colpi... Quanti colpi ti ci vogliono? Che cazzo di problemi hai? Oh. Vediamo. Mi sa che... No, mi sa che... Questo non muore. Questo cade e basta. No, dovevo mirare... Uffa. Che bello che sei. Cioè, in teoria però dovrebbe... Non dico bruciare, ma l'elettricità... Comunque ustiona, eh. Però vedi? No. Questi qua col tempo... Tornano su. Cata stordente. Qua c'era... Ok, prendiamolo. Il diffus... Sì, il... Il contenitore... Adesso si svuota. Forse gli stiamo dando da bere. Ok. Me lo ricorderò qua? Fammi vedere, aspetta. Vediamo se me lo ricordo. La prima, se non sbaglio, era... Vediamo. Questo, questo e questo. Ah no, erano quattro. No, allora no. Aspetta, qual'era? Proviamo così. Così. No, errore. Vabbè, voglio provare a vedere se me lo ricordo, ma se non me lo ricordo... Pazienza. Sera. Così. No, non credo. No. Eh... No, so che ci hanno questi... Sì, perché dicevo gradini, striscia... Forse è la striscia da corsa, però. Vediamo. No, vabbè, lasciamo perdere, dai. Tanto si trovano le soluzioni. Era solo per accelerare... Cioè, per non andare nel pericolo, ecco. Poi dovrei tornare indietro. Allora. Qua, esatto. Questo qua tanto non si anima. Posso stare tranquillo. Però... Gli altri sì. Qua due dovrebbero sbucarne. Esatto, che ce n'è uno là, vedi. Ok. Ah, questo in teoria non si dovrebbe animare. Ah, ce n'è uno là in fondo. No, ma Fide... Così... Devo stargli veramente vicino. Cazzarola. Però... Eh, ne ho sprecate parecchie, eh, di quest'arma. Vedi? Era... Ah, no, ma giusto. Che pirla. Se... Se han cambiato l'enigma degli scacchi, avranno cambiato anche questi. Quindi adesso è... Un gradino, una linea. Due puntini. Diciamo la F, anche se... Sì, una F con la roba in alto. E la striscia da corsa. Vedi che... Ah, no, questo è un altro. Quello è un altro. Ok. Cerchiamo di tardare... L'uso delle munizioni incendiarie che poi ci serviranno. Era così. Due puntini. Una F e striscia da corsa. Esatto. E quindi avevamo cambiato anche l'altra. Ovviamente. Sì, allora... Continuiamo a usare questo fucile... A scarica. Vediamo. Qua dovrebbero caderne due, credo. Se non uno. Ecco, ok. Esatto. Continuiamo a mirarlo. Boh. Almeno per un po' se ne stanno giù. Eh, ok. Ventina. E qua c'è il blocco. Hai visto che si è rialzato? Stronzo. Ah, io me ne vado. Ok. Tanto qui non dovrebbero scendere. Alla mappa. Ok. Poi c'è la polvere da sparo grande che io quasi quasi la uso subito. Ok. Così poi ritorno ad avere un po' di munizioni acidi che comunque aiutano. E anzi. Anzi. Allora, aspetta un attimo. Perché... Qui... Aspetta, eh. Perché qui era pieno di zombie e poi c'erano due clicker. Due leakers. Qui. La stanza dei server... E' chiusa perché ci vuole corrente. Esatto. Quanti ce ne sono? Tantissimi. Qua serve il lanciagranate. Vediamo, eh. Non facciamoci prendere dal panico. Mi sbari proprio la strada, eh. Bastardo. Vabbè, proviamolo. Permesso. Permesso. Ok. Ah, ce l'ho la cura. No che non ce l'ho la cura. È vero? Ah. Eh sì, lì serve il lanciagranate. Però attenzione. Quanti colpi abbiamo? Quattro e quattro pistola. Più la granata stordente. Che di qua... Di qua c'è la scorciatoia. Si torna su di qua. Aspetta, eh. Se adesso è solo là... Cerchiamo di non farci prendere. Dai. Dai. No, non devo andare avanti perché... Perché se vado avanti poi ne sbuccano altri. Poi c'è anche una... Una pianta, se non sbaglio, eh. Oppure c'è il secondo passaggio. Ah. Ok, zero colpi. Ah, pensavo che era qua dietro. Invece no. Allora, gli abbiamo segato... Una gamba. Ok. Calma, eh. Quello tanto striscia. Qua... Qua... Dai. Speriamo... Stia un po' a terra. Ok. Porta è aperta. Era aperta... No, non era aperta. Oppure sì, non mi ricordo. Guardala lì. Cos'è? Polvere qualità alta. Qua è dove c'era il modulatore. In origine. Aspetta, meglio elettrizzarla, va. Olè. Nota di qualcuno. Sono tutti mutati. Sono utili delle piante. Continuano a tornare ancora e ancora. Bruciamoli tutti. Sì, ok. Questo era... Preso... Ah, ho preso tutto. Ok, adesso sblocchiamo la porta. Ok. Bene. Bene, bene, bene. E sono tornato... Siamo alla stanza principale. Allora, ci prendiamo. Aspetta un attimo, che qua abbiamo... Un'altra di qualità alta. E... Sì. Facciamo così. Combina. Combina. Ok. Deposita. 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 Poi. Prendi, prendi. Non so se fonderle. No, aspettiamo un attimo. Aspettiamo un attimo. Fondendo le munizioni di pistola. Non ne abbiamo bisogno. Per ora. Poi. Prendiamo... Questa la depositiamo. Prendiamoci una miscela intera, magari. Vediamo. Sì, una intera. Una intera. Ok. Meglio. Ok. Questo ci servirà... Al laboratorio. No, non so. No, questo adesso, allora, facciamo così. Depositiamolo. Ok. Ci ha aiutato, però... Non li ha uccisi. E io ho bisogno che muoiano. Quindi. Prendiamoci... Eh... Munizioni incendiarie. Munizioni incendiarie. Allora, munizioni incendiarie... Contro le piante. Quelle nella stanza... Nella foresta, lì. E le munizioni acide contro gli zombie e i leaker. All'altra parte. Allora. Sto pensando. Magari... Munizioni incendiarie. Prendiamo le altre tre. Ecco. Sperando di trovarne ancora. Ok. Mo' ci siamo armati. Però. Allora. Eh... Ecco la serra. La serra. Allora, magari. Magari. Ah, è vero. Però andando di qua... Incontravamo le due piante lì. Ok. No, andiamo di qua. Però. Adesso abbiamo le munizioni acide. Ok. Ma... È venuto fino qui? Questo. Aspetta. Eh, c'è... Aspetta. Ok, così volevo. In testa. Così risparmiamo qualche colpo. Ah, quella là si è proprio... Si è proprio fritta. Allora. Quanto di coltelli ne abbiamo. Ok. Posto. Sì. Questa si è proprio fritta al primo colpo. Meno male. Ok. Però qui... Esatto. È rimasto lui. L'avevo fritto. Ok. Colpettino. Vediamo se bastava... Sì, mi mancava un colpo. Trolliamo. Perfetto. Ok. Oh, qua abbiamo fatto piazza pulita. Adesso facciamo piazza pulita qui. Sennò qua non ci si può muovere. Guardalo lì. Però sarebbe bello... Erano in due qua. I leaker. Ah, guarda. C'è uno zombie. Meno male l'ho guardato. Mmm. Sai cosa potrei fare? Allora. Potrei sparare allo zombie. Lui arriva. Si avvicina così. E così poi in un colpo solo... Prendo magari tutte e due. Ehi. A meno che... A meno che... Aspetta. Vediamo se... Forse non apre però. Mi sa che non apre. Dov'è andato? È lì che erano si avvicinato? Vediamo. Oh, io ho sparato però. Contavo sul fatto. Vabbè. Possiamo fare anche così. Occio. C'è anche il leaker. Questo mi sa che è andato. Dov'è andato? Vediamo. Sì, esatto. Solo un colpo. La pistola. Va fa niente. Eh, contavo sul fatto che arrivasse qua perché sentisse il rumore. Però a quanto pare. Ah, ecco. Però anche lì va bene. Oh, sarà morto? Secondo me no. Si agita. Forse sì. Però ce n'è un altro. Questo è andato. Guarda, guarda. Andiamo di munizioni acide. E adesso di quelle incendiarie. Olè. Lo zombie... Ah, ecco. Scusi, è in mezzo alle balle. Vediamo. Basta, basta, basta. Basta. Non esageriamo. Controlliamo. Ok. Ok. No, vabbè, ce n'è un altro lì, ma usare munizioni incendiarie mi sembra uno spreco. Contro il leaker, ok. Ah, spesso ci pensiamo comunque. Qua c'è... Ah, ho lasciato una piantina qui? Eh, già. Ok. Ne ho quante ne ho? Tre. Allora, qui. Urf. Ok. No, ci diamo un po' alla luce, va. Eh. Vediamo. Ho un colpo solo. Io andrei a far rifornimento. Non mi ricordo se c'era solo lui, forse c'era un altro là davanti, boh. Lo saprei. Però qua... Ah, già, qua abbiamo la bottea test, basse temperature. E là la stanza dei server. persi. Ma tanto devo andare da un'altra parte prima. Allora, aspetta, proviamo. Non ci andrà bene, ma... Basta. Basta. Allora, torniamo un attimo indietro. Anzi, torno un attimo indietro. Faccio rifornimento. E vediamo un attimo. Qua doveva sbucare, poi dopo... Eh, no, sbuca già adesso. Ok. Però questa uso S per forza. Anche se è una sola. Vediamo. Spero sia sufficiente, perché non ne vorrei sprecare altre. Anzi, non ne vorrei... Non è sufficiente, purtroppo. Questa è una brutta notizia. Questa è una bruttissima notizia. Non è che posso sprecare tre ganate per uno solo, eh. Eh. Vabbè. Vabbè. Allora. Qua c'ho la piantina. Eh, mi sa che adesso i colori di pistola mi servono, però. Pensarci. Allora, piantina verde, qua. Ok. E... Ah, sì, dai. Oppure... Aspetta, con quella... No, no, dai. Facciamo i colori di pistola. Ok. Deposito questa. E magari mi prendo... La... Questa qua. Ok. Così. Eh, però le munizioni incendiarie poi mi servono anche dopo. Chissà se anche quelle acide funzionano. Cioè, anche se sono acide. Non so. Eh, proviamo. Ne prendo... Ne prendo... Tre. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Dai. Qua le carichiamo. Ok. Ha tutto. Eh, già. Perché conteneva 26 colpi. È vero. È vero. E... Niente. Anzi. Andrò di qua. Andrò di qua. E... Testerò... Qua ce ne dovrebbe essere due. Eh, ecco. Testiamo... Quelle acide. Non gli fa niente. Niente gli fa. Le munizioni acide non gli fanno. Oddio, però è caduto. Sì, è caduto, ma... Eh, ma poi si rialza. No, no. Ci vuole per forza il fuoco, cazzarola. Il fatto è... Che non mi va proprio di sprecare... Le granate, ma mi sa che... Non ho scelta.